Cari amici ben ritrovati, siamo alla decima tappa di Perpresepi di Valdo TV e quest'oggi siamo nel quartiere di San Vittore ad Arano di Piave. Siamo in compagnia di Flavia Comarella che è la rappresentante del quartiere del gruppo di amici spontaneo che si è formato qui a Arano, a San Vittore. Spiegaci il motivo per cui siamo qui. Allora, questa è una nostra iniziativa, abbiamo cominciato per passione a fare dei presepi, abbiamo visto che c'è gente a cui piace venire a visitarli, a vederli, quindi abbiamo continuato, abbiamo ampliato oltre alla chiesetta che dopo vedrete, anche all'esterno di tutta la via di San Vittore, abbiamo dei presepi che ogni famiglia ha allestito, abbiamo aiutato ad allestire, comunque uno diverso dall'altro, veramente belli. Sono tutti presepi visitabili perché sono o in giardini o nella chiesa di cui tu hai le chiavi? Sì, allora la chiesa ha magari degli orari, però quelli fuori sono tutti visitabili, sull'imbrunire vengono illuminati tutti e sono proprio belli da vedere. Quindi invitiamo tutti a venire a visitare, fino a che data saranno visitabili? Fino a domenica 8, sì, 8 gennaio, che facciamo la chiusura, sì, dopo la Befana, infatti è aperto venerdì, sabato e anche domenica, anche la chiesetta. Bene, ringraziamo Flavia, ringraziamo tutti gli amici qua di San Vittore e invitiamo tutti a venire a visitare i presepi.